Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del capitolo 985 di One Piece, spiegare cosa è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Gente, questo capitolo è stato fenomenale, cioè sono accadute tantissime cose e tutte molto velocemente, ma ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Il capitolo inizia con l'arrivo dei foderi rossi, insieme ad Iso, all'entrata segreta dietro il gigantesco teschio, ma lì ad aspettarli c'era Kanjuro, che sapeva benissimo che sarebbero arrivati. Ovviamente li stuzzica un po' parlando di quello che ha fatto al povero Momonosuke. Molto interessanti quei soldati senza testa, che mi hanno fatto gelare il sangue. Divertenti le gag del cane e del gatto che si fanno i complimenti a vicenda per le loro due armi, che fanno da sostituto per gli arti che hanno perso nella battaglia contro Jack. Kiku in questa scena ha spaccato tutto, le sue parole sono taglienti come lame e nel dirlo ha espresso tutta la rabbia che aveva in corpo. E con l'inizio della battaglia Oda decide di cambiare scena, ma prima di andare avanti dobbiamo fermarci un attimo. Voi ci avete fatto caso che Love non era presente? Vuoi vedere che sarà andato ad incontrare Drake per continuare il piano di quest'ultimo? Ma ritornando al capitolo, rivediamo Yamato e Rufi. Oda, davvero io non riesco a capirti. Cioè davvero stai confermando tutte le ipotesi sulla figlia di Kaido? Infatti il fandom è esploso dicendo Yamato Mugiwara e con le parole di quest'ultimo la cosa si fa ancora più plausibile. Ovviamente Rufi non sembra aver accettato, ma ciò non vuol dire che alla fine non entrerà in ciurma. Se non lo farà è perché capiterà qualcosa. E due sono le opzioni che mi sono posto. La prima è che morirà, così potrà rivedere Ace. Non so quale rapporto abbiano avuto, ma sembra essere stato molto intenso. La seconda invece è che rimarrà lì a Wano per qualche assurdo motivo. Inoltre scopriamo che fin da bambina Yamato è rimasta rinchiusa su quell'isola, senza poter mai lasciare Onigashima e vedere il mondo. Tutto ciò per colpa delle manette che ha ai pulsi, che esploderebbero nel caso la figlia di Kaido lasciasse l'isola. La stessa cosa l'abbiamo vista con i collari che avevano Rufi e Yogoro. Però senza ulteriori indugi, Cappello di Paya subito gli offre il suo aiuto dicendo che può levargli le manette senza nessun problema. E qui capiamo, al 100%, che il buon capitano dei Mugiwara ha imparato al meglio l'aki dell'armatura superiore. E capiamo anche che Yamato non possiede questo tipo di haki. E inoltre, Oda conferma un'ulteriore teoria dei fan, ovvero Yamato ha la medesima età di Momonosuke, se non avesse viaggiato nel tempo, ovvero ha 28 anni. Comunque la scena viene interrotta dal discorso di Kaido, e qui le cose si fanno ancor più interessanti. L'imperatore rivela che la nuova arma del governo mondiale è realmente potente, come si dice, ed è per questo che quest'ultimo ha abolito il sistema della flotta dei Sette. Perché crede in questo potere, il che mi fa aumentare ancora di più la curiosità su cosa sia in realtà quest'arma. Molto tempo fa io pensai che fossero gli Shiro Kuma, però a quanto pare sembra essere qualcosa di più potente. E se il governo avesse acquistato tale sicurezza perché con quell'arma è riuscito a catturare tutta la flotta dei Sette, così facendo potremmo anche collegarci all'arrivo prematuro di Marco, dato che non ha più Weeble alle calcagna. Ma continuando con il capitolo, Kaido non si fa intimorire da questa superarma. Infatti per contrastare il governo vuole usare le armi ancestrali. Ok, fermiamoci. Sicuramente essendo un imperatore è a conoscenza di tale armi, però lui sa cosa sono. Se parla di queste armi in un modo così sicuro, saprà dove trovarle e saprà cosa sono. Ho paura che Caribou abbia spifferato qualcosa al dragone, dato che conosce la verità su Poseidon. Ma il clima che aveva creato Kaido viene distrutto, diciamo così, dall'entrata di Big Mom. Infatti, come vi avevo detto nello scorso video, lei è entrata distruggendo tutto ed è riuscita a riprendersi Zeus, che sembrerebbe essere svenuto. Ci sono anche Nami e Carrot, che forse hanno avuto una piccola battaglia con la mammona, ma non potevano fare nulla contro una tale bestia. E parlando di Big Mom, lei afferma che è arrivata l'ora di dedicarsi, insieme a Kaido, alla pirateria. Infatti, fino ad ora, i due hanno creato i loro imperi e non hanno fatto proprio i pirati, se così vogliamo dire. Forse lo erano quando facevano parte della ciurma dei ROX. Ma parleremo dopo di quest'ultimo punto. Ma il tutto diventa ancora più epico quando i due imperatori parlano di voler trovare il One Piece, urlando simultaneamente. Dopo tali parole, Yamato sembrerebbe conoscere tale cosa. O è la prima volta che ne sente parlare? Staremo a vedere perché il diario di Oden per ora rimane ancora un mistero. Ma Kaido non si ferma. Dopo aver parlato dell'alleanza con la mammona e di voler usare le armi ancestrali e trovare il One Piece parla della nuova Onigashima, ovvero Wano Kuni. Infatti il dragone vuole trasformare l'isola dei samurai in un posto senza leggi. Proprio come lo era o lo è ancora a Chinosu, l'isola Teschio, dove ora comanda Barba Nera. Ma all'epoca il capo di quest'isola era proprio ROX di Sebek. Prima di arrivare al finale del capitolo dobbiamo parlare proprio di questo misterioso personaggio. Ve avevo già detto in passato che forse Oda ci sta mostrando la ciurma dei ROX attraverso quella di Kaido. dato che sembrerebbero funzionare allo stesso modo. E dopo quelle parole dell'imperatore dragone, beh, posso anche confermare tale ipotesi. Ed è probabile quindi che ROX sapesse dell'esistenza delle armi ancestrali e che volesse usare proprio quelle per abbattere il governo e diventare il re del mondo. Però vi ricordo che è solo una teoria, quindi niente di certo. Continuando, Orocio ovviamente inizia ad innervosirsi, dato che è grazie a lui che Kaido ha costruito tutte quelle fabbriche ricavando così tantissime armi. Ma l'imperatore senza alcuna esitazione sfodere alla spada di King, che quest'ultimo porge al dragone come se sapesse già cosa avrebbe fatto, e taglia nettamente la testa allo shogun. Ora, Orocio potrebbe realmente essere morto. Forse Oda avrà deciso di toglierlo subito di mezzo. Beh, questa ovviamente è una delle tre ipotesi che farò. La seconda è che potrebbe essere un disegno di Kanjuro, dato che sappiamo che il samurai pittore è realmente un mostro nel disegnare. E la terza ipotesi riguarda il suo frutto del diavolo, ovvero lo Yamatano Orochi. Ovviamente non è l'Hidra, dato che se tagli una testa di quest'ultima ne ricresceranno due al suo posto, ma ricordiamo che è un frutto mitologico e che dovrà dare un potere secondario al suo possessore, Orochi in questo caso. E se questo secondo potere stesse nel riuscire a salvare il fruttoato dopo che qualcuno gli avesse tagliato la testa nella sua forma umana? Nel senso che, invece di tagliare la sua vera testa, il frutto sostituisce l'originale con una delle teste rimanenti. Cioè, secondo me non è poi così impossibile come cosa. Ma tralasciando ovviamente Orochi, che alla fine, se c'è o non c'è, non è che ci interessi molto, infine Kaido rivela a tutti che sarà suo figlio Yamato lo shogun della nuova Onigashima. Naturalmente Rufi e Yamato entrano in campo dopo la caduta dal soffitto, dove Cappello di Paglia chiede al figlio di Kaido come raggiungere Momo prima della sua uccisione e Yamato naturalmente rifiuta la proposta del padre e sembrerebbe voler affrontare quest'ultimo. E il capitolo finisce qui. Mamma mia gente, vi giuro sono stato sulle spine fino alla fine del capitolo. Mi ha gasato tantissimo, la situazione ovviamente è andata a degenerare. Inoltre non abbiamo ancora visto Frankie e Brooke o Sanji e spero che quest'ultimi facciano qualcosa di straordinario per aiutare la ciurma. Soprattutto vediamo nell'ultima pagina la lama della katana di Kiku insanguinata e quest'ultimo che piange. Le teorie si sprecano, però quella, forse più plausibile, è che abbia ucciso Kangelo e che ci sia rimasto comunque male, dato che alla fine era un suo amico ed erano cresciuti insieme e ci sta tutta la parte delle lacrime. Possibile che sia anche peraltro, ma non voglio sbilanciarmi oltre e attenderò con ansia il prossimo capitolo, che dovrebbe aprire a tutti gli effetti la guerra ad Onigashima. Il video è finito, seguitemi anche su Instagram se vi va, troverete i link in descrizione. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Pampling, link in descrizione, ed usando il codice ilGur91 avrete diritto al 20% di sconto. Come sempre vi chiedo di farmi sapere la vostra a riguardo, non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Unity e Anime Tubers e noi ci sentiamo in un prossimo video.